Signora Presidente, ci troviamo di fronte ad un'emergenza sanitaria ma anche ad un'emergenza economica. Potersi spostare da uno Stato all'altro non è solo un piacere personale, è anche la condizione necessaria per la ripresa del turismo in tutta Europa. Imprenditori e lavoratori, insieme con le loro famiglie, hanno bisogno di riprendere la propria attività in sicurezza e velocità. Per milioni di uomini e di donne il certificato verde digitale non sarà la panacea di tutti i mali, ma è certamente un punto di partenza fondamentale per mettere in sicurezza l'estate, rendendo omogenee le procedure di ingresso nei Paesi dell'Unione Europea ed evitando un passaporto vaccinale obbligatorio che sarebbe davvero discriminante per molti motivi. L'estate è già alle porte. Mi auguro che la solita burocrazia europea o le solite paranoie ideologiche delle sinistre non ostacolino il cammino più veloce possibile del certificato in questo Parlamento. Sarebbe un'ulteriore ingiusta violenza nei confronti dei cittadini italiani ed europei.